Una convergenza sulle tematiche comuni in primis l'attenzione all'ambiente e quanto il COIFIM, Consorzio dell'Area Industriale di Fosso Imperatore, ha da giorni chiesto al Comune di Nocera Inferiore sulla scorta anche dei nuovi allarmi sul corso d'acqua che attraversa l'area industriale nocerina, oggetto d'indagine da parte della magistratura ed è un gruppo di lavoro che sta tentando di individuare i responsabili dell'inquinamento del canale di Fosso Imperatore. Dal canto loro gli imprenditori vogliono vederci chiaro. Non apporta niente di costruttivo dire, l'avevamo detto assolutamente, non serve. L'importante è rimuovere una condizione che indubbiamente è da superare. Oggi credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere l'ambiente l'assoluta priorità. Abbiamo già combinato tanti disastri ed è meglio metterci mano. Al di là di questo dire diamoci insieme una programmazione, condividiamo delle azioni da implementare immediatamente affinché si possa superare questo problema. D'altra parte sono preoccupato per la condizione delle aziende di Fosso Imperatore perché ormai il periodo pericoloso è in avvicinamento e le piogge adesso diventeranno nuovamente forti e creeranno i problemi che hanno creato l'anno scorso.